Se ti piacciono le colazioni all'insegna dei dolci e della frutta, allora devi assolutamente preparare la marmellata di ciliegie con il bimbi. Ingredienti 1300 g di ciliegie intere 250 g di zucchero di canna Buccia di mezzo limone Mezzo cucchiaino di cannella Metti la buccia di limone nel boccale del bimbi. Aziona il bimbi 10 secondi, velocità 7. Metti da parte. Metti le ciliegie intere nel boccale. Aziona il bimbi 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ora le ciliegie si sono ammorbidite ed è più facile togliere i semi. Aziona il bimbi 5 minuti, 100 gradi, velocità 3. Quindi togli tutti i semini con un cucchiaino. È meglio farlo a questo punto piuttosto che sbucciarle prima e macchiarsi le dita. Aggiungi alle ciliegie, ormai senza semi, lo zucchero di canna, il limone precedentemente frullato e la cannella. Aziona il bimbi 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Se vuoi puoi dare più consistenza alla marmellata. Aziona il bimbi 20 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Per farla diventare ancora più consistente, puoi aumentare il tempo. Versa la marmellata bollente in barattoli sterilizzati. Una volta chiusi i barattoli, mettili a testa in giù, fino a che non si sono raffreddati. Conserva la marmellata in un posto fresco e scuro. Un consiglio. Io sterilizzo i barattoli e i loro tappi, mettendoli sulla grata del forno a 120 gradi per 20 minuti. Oppure con grappa o rum ad alta gradazione alcolica. Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare?